Un infortunio sul lavoro e un incidente questa mattina in Valle Camonica. Intorno alle 10.30 un operaio di 51 anni è precipitato da un'altezza di circa 4 metri dalla tettoia del complesso commerciale Buario Centro, in via Manifattura Olcese ad Arfu Buario Terme. Dalle prime ricostruzioni pare che l'uomo si trovasse su una piattaforma elevatrice per eseguire delle operazioni di montaggio di alcune lastre di vetro su un'impalcatura, quando improvvisamente è precipitato a terra. Sul posto sono giunti i volontari di Camunia Soccorso con l'automedica, l'eleambulanza ricollata da Brescia e i carabinieri della stazione di Darfo Buario Terme. L'operaio è stato trasferito in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale civile di Brescia. Sembra non aver riportato lesioni gravi. L'esatta dinamica dei fatti è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Breno, ad effettuare le indagini i tecnici di prevenzione di medicina del lavoro di ATS. Il secondo incidente nella mattinata si è verificato invece a Esine intorno alle 11.30 in via Leutelmonte, nei pressi del cimitero, coinvolto un ciclista di 66 anni e una donna di 37. Dalle prime informazioni pare che si sia verificata una collisione tra l'automobile guidata dalla donna ed il ciclista che si stava dirigendo sulla pista ciclabile. Sul posto sono giunti i volontari della Croce Rossa, l'elisoccorso e la polizia stradale di Darfo Buario Terme. Dopo le prime cure sul posto, il 66enne è stato trasportato in codice giallo alla poliambulanza di Brescia. L'esatta dinamica dei fatti è ora al vaglio della polizia stradale che sta analizzando i filmati delle telecamere.